Rappinavano le farmacie del centro armate di taser e punteruoli. Scatta l'arresto per due soggetti ritenuti responsabili di aver rapinato cinque farmacie e in possesso di armi in luogo pubblico. Inoltre trovati in possesso di una somma che si aggira ad un valore di circa 10.000 euro in contanti. I due, dopo essersi introdotti all'interno dell'esercizio commerciale con il volto semicoperto da un casco, si facevano consegnare l'incasso giornaliero per poi scappare a bordo di uno scooter parcheggiato nelle vie diacenti a dove commettevano il colpo. L'indagine, condotta dai carabinieri della stazione Roma-Monteverde Nuovo, è iniziata a gennaio 2015 a seguito del primo episodio, verificato sei danni di un titolare di una farmacie in zona portuense. Attraverso l'analisi dei tabulati telefonici, accertamenti e riconoscimenti fotografici, si è riuscito a risalire due soggetti responsabili.